In questo periodo c'è stato anche un distacco tra di voi o è solo stato un distacco dai social e da quant'altro? In realtà c'è stato anche un distacco tra di noi, diciamo che appunto dopo Sanremo, dopo il tour, fondamentalmente si era chiuso un ciclo, il nostro lavoro è fatto di grandi cicli, no? Tu quando finisci la promozione, finisci il tour, ci sta, che ti ritiri un attimo, fai il disco nuovo, ovviamente questi tempi sono sempre più accorciati perché oggi viene richiesta una presenza massiccia, ma tendenzialmente funziona così. E quindi l'abbiamo preso come un'opportunità, cioè abbiamo detto comunque noi è cinque anni che facciamo sta cosa qua, no? La sindrome del profilo di coppia comunque la soffriamo un po', no? Cioè quella roba lì e dici sì, ok, però siamo due persone con percorsi diversi, con esigenze diverse. E quindi ci siamo anche staccati ma semplicemente per respirare un attimo noi, siamo tornati ognuno al paesello, per un mesetto scarso, ed è stato rigenerante.